Quali saranno i principali argomenti trattati durante questo convegno? Allora, il convegno avrà come argomento il paziente difficile, nel senso i pazienti con i quali ci troviamo ad operare quotidianamente all'interno delle nostre strutture e quindi i pazienti adolescenti con problemi di dipendenza e i pazienti con problematiche di dipendenza associati ai problemi psichiatrici. Ci saranno relatori importanti che verranno anche da molto lontano. Sì, avremo con noi il professor Di Gian Antonio dell'Università di Chieti che farà una relazione rispetto proprio al problema della doppia diagnosi quindi di fronte al paziente che ha problematiche di dipendenza e problematiche appunto legate alla salute mentale. E avremo con noi anche il dottor Pomero che arriverà da Bordeaux e dal centro Abadia di Bordeaux che si occupa soprattutto di adolescenti e bambini con problematiche suicidarie e problematiche legate alla dipendenza. A chi è rivolto questo incontro? È rivolto soprattutto a figure sanitarie, quindi psicologi, medici, psichiatri, assistenti sociali ed educatori che si occupano quotidianamente di questo tipo di problematiche e anche a chi può essere interessato ad approfondire questo tipo di argomenti. Ricordiamo gli orari e come è scandita la giornata? Allora, inizierà alle ore 9 con l'iscrizione perché questo convegno ha la possibilità di avere anche i crediti ECM che sono necessari per le figure sanitarie, quindi questo aspetto credo che sia importante per chi necessita di questi crediti formativi. Quindi alle 9 con l'iscrizione e saluti e poi si inizierà proprio con il professor Pomero. Ecco, lui parlerà in francese, ci sarà la traduzione, quindi questa cosa sarà possibile, come dire, essere ascoltata anche da chi non parla in francese. Subito dopo ci sarà la relazione del dottor Di Gian Antonio e saranno presenti anche due strutture comunitarie che operano da anni in questo settore, quindi nel settore delle problematiche dell'adolescenza con problemi di dipendenza e con problematiche di doppia diagnosi che saranno invece durante il pomeriggio. Si chiuderanno i lavori alle ore 17 con un momento di tavola rotonda per le domande e gli approfondimenti di chi avrà voglia di approfondire con i relatori gli argomenti trattati durante il convegno. Il convegno sarà moderato da due moderatori che sono la dottoressa Maccagno e il dottor Ardissone, che sono il primario della salute mentale di Sanremo, la dottoressa Maccagno, che è del dipartimento di salute mentale e dipendenze di tutta l'ASL 1 Imperiese. L'organizzazione a cura dell'Ancora quindi si inserisce all'interno delle vostre attività? Certamente sì, questa iniziativa diciamo che chiude un po' questo anno che per noi è stato abbastanza intenso perché compiamo 30 anni di attività e abbiamo voluto festeggiarlo con diverse iniziative, anche culturali, sui temi che ci sono cari. E quindi chiude l'anno questo convegno che ci piace pensare a un certo spessore, soprattutto per il fatto che noi nelle strutture vediamo sempre più inseriti situazioni complesse, noi le chiamiamo con una brutta parola forse multiproblematiche, che quindi hanno problematiche di vario tipo, sanitarie, sociali, affettive, eccetera. E la presa in carico residenziale, benché a volte criticata perché costosa, in realtà spesso è una delle poche risposte valide quando la problematicità è elevata. Perché sono pazienti spesso che la gestione nel territorio, nell'ambulatorio o anche in centri di urni non sempre è possibile. E c'è bisogno molte volte di un intervento più contenitivo. E quindi noi siamo sul pezzo, come si dice in gergo, da molti anni su questo. E insomma speriamo di poter continuare a esserci aggiornati con le nuove problematiche che, ahimè, da un lato positivamente vedono ridursi l'impatto delle vecchie dipendenze storiche, l'eroina, anche l'AIDS, benché ci siano comunque segnali a volte di reflusso, come si dice, ma vedono invece aumentare problematiche molto più assortite, legate a una pletola di sostanze nuove che vengono immesse sul mercato, con strategie, devo dire, molto più simili al marketing che non ad altre tipologie di mercato, diciamo. E niente, quindi è un lavoro che è sempre sfidante, devo dire, perché appunto coinvolge molte aree della vita, delle persone, e richiede comunque operatori professionalmente preparati, ma che hanno desiderio di mettere qualcosa in più nel loro lavoro, perché la tecnica non risolve tutto. Il nostro cervello ci ha ormai insegnato che è molto plastico, che apprende e si modifica in base alle esperienze, devo dire una cosa in più anche sul discorso della prevenzione, proprio per questa ragione, a volte noi siamo un po', ci sentiamo in alcuni casi l'ultimo anello della catena di una serie di, chiamiamoli, insuccessi educativi, personali, eccetera, che alla fine richiedono una presa in carico importante. Pensiamo che in questo tipo di attività, un'attività di prevenzione può fare molto, può essere di grande aiuto alla persona e impedire che certe situazioni si cristallizzino, diciamo. E quindi, pur rendendoci conto che molto spesso si corre dietro alla gravità dei fatti, alle emergenze, siamo tutti purtroppo abituati a guardare gli esiti più negativi, pensiamo che si possa fare molto anche intervenendo prima con quello che si chiama diagnosi precoce, con interventi anche educativi nelle scuole, che noi ci vedono tra l'altro impegnati da anni, e con interventi anche formativi per tutte quelle figure che hanno un ruolo educativo, che sono i genitori, sono gli insegnanti, sono tutte le figure significative che coi ragazzi possono avere un ruolo significativo e importante.